Era Lady Violetta la Lady Violetta No Way No Time dal 2001 Sul finire degli anni 90 apparve questa donna con la parrucca viola che si diceva fosse una nobile donna che aveva niente po' di meno che rinunciato a suoi averi per la musica in realtà lei si chiamava Francesca Messina e dopo aver lasciato la dance è diventata attrice teatrale non solo, dal 2013 a un nuovo progetto musicale che risponde al nome di Femina Riddance Il sesso che cresce E lei? Invade la tua ma Invade la tua ma Muovi Muovi Avanti Masturbati Come masturbati? Comunque non è una roba, io lo so che siamo un po' sopra le righe E lei eh, giuro, informatevi E' una cosa vera C'è questa qua Che mi è diventata lea e media Non riesco neanche a dirlo Sono scosso